No, fermi! Non entrate in quel castello. Non cercate di scoprire cosa si cela tra le sue mura. A meno che non vogliate scendere l'ultimo gradino della scala dell'orrore. Guardate queste ragazze. La loro giovinezza, la loro vitalità, pendono da sottilissimi fili. Vivono vite che non gli appartengono più, perché ognuna di loro fa parte di un orvido disegno. Fuggite da quella porta. Non aprite quella porta. Altrimenti una rossa, agghiacciante follia scenderà nelle vostre menti e paralizzerà i battiti del vostro cuore. Un dramma che scaturisce dall'odio e dalla perversione dei sensi, dall'abbrutimento e dalla follia sessuale. Un dramma che lacera le vostre menti con l'unghiata felina di un gatto. Un tentativo di spezzare la vostra resistenza nervosa. E dipenderà solo da voi, subire o ribellarvi. Guardare o non guardare le immagini di questo film. Ricorderete di giorno. E vorrete dimenticare quando arriva la notte. Ricorderete di giorno.